Che cosa ha visto? Visto, più che altro ho sentito, ho sentito quattro colpi d'arma da fuoco e sono sceso, ho chiamato la polizia e i carabinieri, ho sceso e ho visto questa gente, uno fuori della macchina e tre persone dentro la macchina, vedete, chi sono queste due persone? Io non li conosco, conosco la ragazza, Ilaria, perché abita di fronte al terrazzo di casa veniva, buongiorno, buonasera, niente di più, erano morti? Non lo so, no, davano segni di vita.